Oroscopo 2020 per il segno dei gemelli Il 2020 è un anno che porta davvero grandi soddisfazioni ai gemelli, ma anche un po' di stanchezza. Si tratta di un anno tendenzialmente felice che nello specifico farà andare a gonfie vele anche i sentimenti. I gemelli concludono un 2019 non proprio con i fiocchi, ma per fortuna riusciranno ad avere indietro tutto ciò che è mancato in questo 2020. Sarà l'anno d'oro per chi appartiene a questo segno zodiacale, un anno che farà ottenere a questo segno tutto ciò che ha sempre cercato. In particolar modo i gemelli saranno ripagati del loro staccanovismo e anche dell'impegno con il quale hanno provato a cambiare le loro vite nel corso dell'anno precedente. Proprio grazie a questo si prospetta una grande partenza ed un finale d'anno altrettanto soddisfacente. Il 2020 sarà un anno speciale per questo segno, come non avveniva da molto tempo, e potrà essere l'occasione per cambiare radicalmente vita e imparare ad apprezzare tutto quello che si ha. Non ci sarà un periodo migliore ed uno peggiore, perché tutti i 12 mesi saranno caratterizzati da tranquillità, serenità e eventi gradevoli. Sicuramente questa serenità sarà anche intervallata da momenti di stanchezza, dovuti al carico di lavoro che sta per aumentare. Ma tutto questo non farà che aumentare il senso di soddisfazione di questo segno zodiacale, che è pronto per fare davvero del suo meglio. Ecco quindi quello che succederà nel 2020, l'anno speciale dei gemelli. Gemelli e amore Soprattutto per l'amore si prospetta un periodo davvero positivo per gli appartenenti al segno dei gemelli. Infatti, chi ha già una relazione solida potrà cogliere l'occasione di questo ottimo periodo per chiedere la mano del partner, oppure per progettare insieme di convolare a nozze. È altrettanto vero che chi ha già compiuto questo passo potrà approfittare per mettere su famiglia, un tipico sogno di chi appartiene al segno dei gemelli. Chi invece non desidera sposarsi potrà comunque attraversare un periodo meraviglioso della propria relazione, nel quale è comunque consigliabile prendere decisioni importanti, come intraprendere una convivenza, cambiare casa, arredamento o qualunque altra cosa. I single possono finalmente sperare in un incontro destinato a cambiare le loro vite. Infatti, il 2020 porterà l'amore nella vita dei gemelli e il consiglio più adatto è quello di non imporsi limiti né freni. L'amore è arrivato, bisogna assolutamente goderselo senza pensare a quello che potrebbe succedere. In questo modo l'appagamento di questo segno diventerà veramente significativo e i gemelli potranno dare il massimo in tutti i sensi, anche nel campo lavorativo, visti i sentimenti positivi che proveranno in amore. In questo 2020, in cui Saturno appare capriccioso e molto spesso presente, il consiglio è di avvicinarsi soprattutto a qualcuno che appartenga al segno dei pesci. I gemelli vivranno un feeling particolare con questo segno, mentre dovranno evitare chiunque che sia del segno della riete, poiché la parola d'ordine sarà comunicazione e la riete non vorrà saperne di parlare, ma avrà bisogno dei suoi spazi. I gemelli, in preda all'euforia del momento, non daranno mai la possibilità alla riete di godere dei propri divertimenti. Sicuramente, a parte queste piccole difficoltà, l'amore è dietro l'angolo e questo vale lo stesso per la felicità, che sarà presente in grandi quantità in quest'anno a dir poco speciale. Gemelli e lavoro Il lavoro sarà davvero al massimo per i gemelli. L'avere lavorato in maniera intensa negli anni precedenti porterà a diverse gratificazioni che arriveranno soprattutto a metà dell'anno. Questo segno zodiacale avrà l'opportunità di arrivare addirittura al vertice della propria carriera e arriverà il momento di provare tutto l'appagamento lavorativo che in questo periodo di tempo non c'è mai stato. Questo ovviamente vale per la maggioranza dei gemelli, ossia per chi si è davvero concentrato dal punto di vista lavorativo e non ha fatto esclusivamente il proprio dovere, ma qualcosa di più. Se il lavoro che finora questo segno ha svolto non l'ha soddisfatto sufficientemente, è proprio il 2020 il momento adeguato per iniziare a guardarsi intorno e riprendere a cercare lavoro, proprio come ha fatto molto tempo prima. Anche gli studenti attraverseranno un periodo d'oro in cui riceveranno moltissime gratificazioni per tutti i loro sforzi, che si concretizzeranno in tanti vuoti particolarmente alti. E' necessario sfruttare questo periodo positivo, che inizierà soprattutto dalla seconda parte dell'anno, per dare una svolta alla propria carriera studentesca, in maniera tale da inserirsi il prima possibile nel mondo del lavoro. Chi invece non ha mai lavorato o sta cercando lavoro, forse dovrà appazientare un po' prima di ottenere il lavoro dei suoi sogni. Arriverà nel 2020 qualche opportunità che difficilmente si potrà rifiutare, ma non si tratterà di ciò che il gemelli ha sempre sognato. Sicuramente però potrebbe essere un buon inizio ed un buon modo per iniziare a comprendere come funzionano le dinamiche sul posto di lavoro, così da iniziare più formati e più pronti a cercare il lavoro da sempre sognato. Anche chi si è appena laureato potrebbe fare un po' di fatica, ma sicuramente avrà occasioni per fare la gavetta, di cui c'è bisogno, almeno nei primi tempi dopo la laurea. Sicuramente quindi è il momento di sfruttare anche questo buon periodo. Gemelli e salute La salute dei gemelli potrebbe essere sicuramente compromessa dalla grande attività lavorativa svolta durante il periodo dell'anno. Infatti, le gratificazioni sul lavoro e le promozioni porteranno ad un incremento dell'attività da svolgere, cosa che potrebbe portare un segno così dedito a ciò che deve fare a trascurare la propria salute. Il consiglio, per quanto riguarda il 2020, è quello di non sottovalutare eventuali sintomi, nonostante il tanto lavoro da svolgere. È comunque necessario prestare attenzione alla propria salute ed effettuare i classici controlli di routine, senza trascurarsi troppo. In più, il consiglio è anche quello di iniziare a intraprendere uno sport in maniera tale da sfruttarlo per sfogare tutte le frustrazioni e lo stress che inevitabilmente si accumulerà con gli impegni lavorativi che aumenteranno. Se le soddisfazioni anche dal punto di vista economico saranno notevoli e la felicità sarà davvero tanta, è innegabile che eventuali promozioni porteranno ad avere una maggiore stanchezza. È consigliabile quindi iniziare ad adottare uno stile di vita sano e trovare qualche sport per sfogarsi e per migliorare la propria forma fisica. Il consiglio è anche quello di rallentare quando ci rendiamo conto di non farcela. Non è obbligatorio fare tutto prima del tempo, non se questo significa rovinarsi la salute. Bisogna scegliere dei giorni, ma anche solo dei momenti durante la giornata in cui pensare soltanto a se stessi. È l'occasione giusta per leggere un libro, per fare una passeggiata rilassante, andare al centro estetico o per fare tutto ciò che in genere viene rimandato dai gemelli. In conclusione, anche per i gemelli non esiste solo il dovere, ma anche il piacere. In uno degli anni più belli che siano stati attraversati ultimamente da questo segno, si tratta di una cosa davvero fondamentale da capire e da tenere in considerazione. Non dimenticare di consultare l'oroscopo 2020 dettagliato per ogni singolo segno zodiacale. Trovi tutti i link in descrizione. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale, clicca la campanella e condividi questo video con chi vuoi.